Cristo, con il dono del tuo Santo Spirito, ci hai fatto tuoi testimoni, perdona le nostre inferiorità e ami pietà di noi. Signore, alla mese del tuo corpo e sangue, ci edifici come popoli della nuova ed eterna alleanza, perdona le nostre divisioni e ami pietà di noi. Signore, alla mese del tuo corpo e sangue, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amén. 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 Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato. Ha dato ascolto al mio grido, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Signore. Sacrificio e offerta non vedisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto lo calcio di sacrificio per il peccato. Allora vengo, ecco, io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto, di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua medigia è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nelle grandi assemblee. Vedi, io vengo per fare le labbra. Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. From the first letter of St. Paul to the Corinthians. Paul, called to be an Apostle of Christ Jesus, by will of God, and sustenance our brother to the Church of God, which he led her in. To those sacrified in Christ Jesus, call to be saints together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and our Son. Grace to you, and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Parola di Dio. Alleluia! Parola di Dio. Parola di Dio. Alleluia, Alleluia The world became flesh and dwell among us. To those who residen, he had power to come children of God. Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia 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 Signore che sia a voi L'Avangelo secondo Giovanni Quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso i tuoi, disse Ecco la mia vita di Dio, colui che toglie il peccato del mondo Egli è colui del quale ha detto Dopo di me viene un uomo che avrà per me Perché era prima di me Io non lo conoscevo, ma sono venuto a patizzare nell'acqua Perché egli fosse manifestato a Israele Giovanni testimoniò dicendo Ho contentato lo Spirito di scendere con una colomba dal cielo Per rimanere su di lui Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a patizzare nell'acqua Mi disse Colui sul quale dovrà di scendere e rimanere lo Spirito E lui che patizza nello Spirito Santo E io ho visto e ho testimoniato che questo è il figlio di Dio Parola del Signore Ascolteremo adesso questa testimonianza Da parte di un dei membri dell'Ufficio Migranti di Dio Cessano Che lavora appunto nella nostra Dio Cessano Buongiorno a tutti Io mi chiamo Sandro, vengo da Catanzaro Sono migliorato anche io che sono di Roma L'Ufficio Migranti di Dio Cessano Quindi questa è la mia vita Io ho vengono sfrutto da una cosa che ho sentito dalla parola di Dio Per darvi la mia esperienza Perché non voglio che si toglie soltanto su qualcosa che dico io Che potrebbe essere soltanto una sensazione Ma le sensazioni che questi mesi sono destinati poi a svalire Se nasce la prova E se nasce la disaffezione Che è una di problematica C'è un mandato per il Signore citare in questa parola Che da tutta la dioce Che dall'Arcidioce si è calentato sull'ace Quindi a ognuno di noi Che è quella che dice appunto Che questa parola sia annunciata fino ai confini della terra Io mi sono posto sempre davanti a questa parola Con il dubbio Signore come posso io Se sono qui Arrivare ai confini della terra Per annunciare che tu ami tutti Che tu ami tutti così come sono Di qualunque religione Di qualunque nazionalità E il Signore mi ha risposto Mi ha messo in un'attività Dove i confini della terra Vengono La mente La mente e i miei colleghi Vengono in dioce Vengono presso la fondazione Con il mio lavoro Come educatore Che cosa posso dire Se non Innanzitutto ringraziare Don Roberto Per questa opportunità Perché Molte volte si pensa Che Che la Chiesa si stia dimenticando In questo tema E oggi invece è una giornata nazionale Io vi racconto quello che è un'esperienza Non perché voglio Intietosirmi Verso gli immigrati O verso Quelli che hanno Sono partiti dall'Italia Per andare fuori Ma per Per trasferirvi quello che il Signore sta donando a noi In questa ora Noi abbiamo toccato con mano Stiamo toccando con mano Alcune emergenze che ci sono state D'Oroperto Fermati Siamo all'Urlo E alcune esperienze Quali emergenze Che ci sono state Molte volte avete vissute Perché questa è una costa Trontaniera Una costa di frontiera Avete vissuto Ci sbarchi In questa zona Avete visto Tanta gente disperata Noi abbiamo toccato con mano Che cosa significa Accogliere dei ragazzi Minori Minorenti Stranieri Qui ne vedo alcuni Non stranieri Vedo dei bambini Molti di loro Gabbiamo tirati fuori Dalle barri Solo Senza genitore Non hanno intrapreso Un viaggio di piacere Hanno intrapreso Un viaggio di disperazione E noi abbiamo visto come Se non c'è carità Verso queste persone Queste persone sono destinate A fare una brutta fine Se non si sentono Si arrivano qui Scappando da un paese Dove si sentono rinitati Dove non hanno nessuna possibilità Di sviluppo Di istruzione Se arrivano qui E trovano lo stesso Sono dei disperati Abbiamo visto Quanto dare per loro Un pasto caldo Di metterli nella scuola Aiutati a capire Che avevano una dignità Seppur piccoli Questo li ha aiutati moltissimo Li abbiamo messi nella scuola Sono stati scolarizzati Hanno imparato A parlare l'italiano Alcuni italiani Alcuni italiani Non parlavano anche La loro lingua E qualcuno di loro E' stato messo Nel mondo del lavoro Non lavoro Lavoro decorato Sentivo prima Che facevano le prove Il coro Lì La violista Salutario Farete esce Da la loro terra Mi sembrava Ecco questi L'hanno sperimentato Su la loro pelle Noi abbiamo Molte tipologie Di persone straniere Che vengono da noi Una di quelle Sulle quali anche Quanto concetto In questo momento Sta battendo Quello della tratta Delle schiave Esiste Si sta sviluppando Io vi voglio Pensibilizzare Su questo A denunciare Quando voi Vedete questo Esiste Uno sfruttamento Prostitutivo In questa zona E in tutta la carattere Che si sta sviluppando Di ragazze schiave Che devono Vedere il proprio corpo Per poter Essere vive Per salvare E noi ci stiamo Opponendo Noi stiamo Lavorando su questo Accogliendo Queste persone E vedendo Quanti disastri Fa Il denaro Il denaro In funzione Della Devoce E poi Che vanno Nel circuito Questo denaro E poi Ed è una cosa Della Lavorare con Canzoni Di diversa cultura Che convivono In una stessa Casa Insieme agli italiani Con noi Operatori Che Sperimentano Giorno per giorno Che cosa Significa L'accoglienza E vi devo dire La verità Che molte volte Quando io Torno in casa La sera O come oggi Ho fatto il turno Di notte Arrivo A dare testimonianza Di questa cosa Di questa cosa Che il signore Mi sta facendo Vivere Mi rendo conto Che Che il dono Maggiore Non ce l'ha Ma ce l'ho Io Perché loro Vanno tanto Vanno tutto In questo In questo In fondo Noi E' La distridenza Dell'altro Del Prejudizio Del prejudizio Ci difendiamo un po' Ci chiudiamo un po' Ci mettiamo un po' Da parte Che cosa Che Che Immigrazione Se no Un cammino Che la Chiesa Ha dato A degli uomini Affinché si incontri il nostro cuore noi tutti siamo emigranti siamo emigranti tutti quanti siamo in questa terra ma domani non ci saremo più siamo di passaggio come dico la morte a volte in chiesa siamo qui di passaggio perché la nostra terra è un'altra ecco questi ci parlano ci dicono coraggio perché se io ho fatto questa esperienza è perché forse tu possa riflettere su ciò che hai e che forse ci sentiamo quanto abbiamo l'immigrazione nella nostra cediocesi è molto importante oggi pomeriggio ci sarà una celebrazione a segna marina dove c'è una grossa concentrazione di persone immigrate e si farà una celebrazione dove ci saranno alcuni ragazzi e mediatori culturali che faranno andare anche là la loro esperienza ecco vedete ciò che mi dite molto la mentalità le usanze a volte sembrano persone strane possono sembrare persone lontane da noi ma vi assicuro che sempre hanno vivono gli stessi sentimenti vivono le stesse debolezze vivono le stesse la stessa indifferenza che molte volte viviamo noi quando non c'erano riconosciuti i nostri diritti la Migrantes la fondazione per il lavoro e tutta la diocese ma tutta la chiesa è concentrata proprio nel cercare di far rispettare questi diritti fondamentali che noi mettiamo a produrre i nostri figli ci sono dei figli che non hanno dei diritti e noi come cristiani non possiamo dire vabbè ma che ci saremo da fare questo per un altro o per qualcuno che vuole fare qualcosa di indifferenza di tutto potrebbe pure starci ma io come cristiano non posso dire che ci sei dovuto a fare perché il Vangelo me lo dice ero straniero e mi hai racconto cioè Gesù mette dei fatti nella nostra vita che ci portano a dover testimoniare necessariamente se siamo cristiani o se non lo siamo io lavoro con gli immigrati da ormai di 13 anni e loro mi riprovano perché non hanno imparato una parola di arco ad esempio e questo può sembrare una fesseria ma a me mi interroga perché loro giustamente dice tu lavori con noi ci mandi a scuola ci scuola ricchi ci fate fare l'italiano ma tu perché non mi vieni con me questa è una cosa superficiale diciamo una cosa che loro chiedono ma parla di qualcosa di profondo dice ma tu o me che cosa vuoi fare il maestro il professore oppure mi vuoi trasmettere qualcosa di serio di profondo che mi fa sentire accolto e che mi fa sentire amato questi ragazzi che noi abbiamo queste donne che si prostituivano queste persone che hanno intrapreso i viaggi come nonni che hanno avuto famiglie sfasciate uccise genitori uccisi davanti di loro occhi case infiammate case taracche infiammate davanti di loro occhi ritmi d'un tutto ciò che è violenza questi lo hanno visto per loro e noi non possiamo che rispondere con amore a questo senza moralismo tu devi per essere accettato tu devi qui sai in Italia ci sono degli doveri che ma voi immaginate che cosa significa una persona che arriva da questo dramma arrivare in una terra dove anziché sentirsi accolto e è amato si sente ancora un altro questo corso se tu vuoi stare qui devi 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 ma io non mi chiamo cosa devo a te cosa ti devi cosa ti devo questa è una giornata bellissima perché sicuramente questa parrocchia questa comunità parrocchiale se ha risposto così a questo invito che è molto impegnato in questa situazione vuol dire che ha sensibilità e io vi ringrazio e soprattutto vi chiedo di pregare per noi di pregare per tutti coloro che sono prima linea in questa in questa azione di difesa dei diritti umani c'è un attacco profondo alla famiglia in Italia oggi ma c'è ancora di più un attacco alla impossibilità di creare famiglie stranieri cristiane e non in Italia perché siamo troppi dicono loro non siamo troppi siamo loro il signore ci ha chiamato calcolate che in Italia siamo una nazione che ha meno immigrati di tutta Europa voi non giuro non pensiamo che siamo di stacchino noi abbiamo meno immigrati di tutta Europa però l'accoglienza che l'ha presa si è vista perché vi siete aperti in un modo spaventoso noi abbiamo visto una collaborazione spaventosa in tutta la posta a Catandaro a Sottolone noi abbiamo vinto a lato che vicino c'è un esempio fortissimo di integrazione un paese che sembrava finito che con l'arrivo degli immigrati e degli immigrati è nato e sta nascendo e si sta sviluppando e stanno nascendo famiglie nuove figli nuovi figli nostri ecco io vi chiedo di pregare per noi perché senza la preghiera noi non possiamo fare proprio nulla perché ci deve ci deve sostenere e ci deve aiutare penso che posso farci abbiamo invito continuiamo a pregare ci mettiamo in piedi e facciamo la nostra passione credo in un solo Dio padre di me e alla morte del cielo e della terra da tutte le vostre edizione e indissimili credo in un solo Signore e Gesù Cristo un ingegno figlio di Dio nato dal padre prima di tutti i secoli io da Dio produzione la luce e la terra e la terra generale con la carta e la stessa stanza di padre e mezzo in cui tutte le cose sono state create e non di non la stessa di scelta del cielo e la obra del suo Vito Santo si è incarnato e si è presentato genitorio e si è fatto nuovo fu così visto per il nostro sopporto segnato morire di segnato e se non è uccitato la folla Grazie a tutti. 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 . . e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti.